Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie all'amico Antonio Agostini che credo sia proprio l'ambasciatore ideale per parlare di spazi e applicazioni, visto il tuo passato e la tua conoscenza del settore. Parlare di space economy in questo momento penso che sia uno spunto interessante perché sono stati ricordati ahimè dei dati molto negativi di quelle che sono le prospettive di crescita a causa dell'emergenza che abbiamo vissuto. Mi piace ricordare per contrasto e per stimolo quelle che sono invece i dati di crescita legati al settore proprio della spesa economy rispetto alla crescita media standard dell'economia. In generale si parla di due o tre punti percentuali in più. Negli ultimi anni è stato calcolato l'impatto indiretto delle attività spaziali sull'economia dell'Unione Europea sia tra il 6,2% e il 9% in settori come l'agricoltura, la finanza e i trasporti. Quindi mi piace guardare allo spazio come una prospettiva di ripresa effettiva e come quindi lo spazio può essere utilizzato in supporto a questa ripresa. Ne abbiamo parlato a profusione oggi. Il generale Carta è stato dettagliatissimo nell'illustrare quelle che sono le opportunità di utilizzo dei dati spaziali, degli strumenti spaziali per il monitoraggio del patrimonio e per tutte le applicazioni di cui abbiamo discusso oggi. Lo spazio è proprio... le attività spaziali, le tecnologie spaziali nascono per supportare tutto il patrimonio, sia quello che se non sbaglio nella vostra terminologia definite demanio pubblico necessario e quindi i fiumi, le coste, proprio tipico dell'osservazione della terra dallo spazio, i fiumi, le coste, tutto il territorio, e quello invece poi eventuale, accidentale, che sono le infrastrutture, gli edifici, di cui in particolare abbiamo parlato oggi. Però volevo ricordare appunto il fatto che l'osservazione della terra dallo spazio supporta molto di più anche tutto ciò che è naturale da preservare. Quindi non volevo ripetere in dettaglio tutto ciò che è stato già detto, però volevo sottolineare un paio di punti tipici del settore spaziale, che sono lo spazio è per definizione multidisciplinare, la multidisciplinare dello spazio riguarda sia gli strumenti che le risorse necessarie a fare attività spaziale, i bisogni, quali sono i bisogni delle utenze potenziali delle attività spaziali e non a caso la governance necessaria. In Italia siamo sicuramente all'avanguardia da questo punto di vista perché la legge 7 del 2018 ha attribuito direttamente al Presidente del Consiglio il coordinamento e la direzione e la responsabilità delle attività spaziali, che poi vengono delegati, in questo momento sono delegati al Sottosegriario Fraccaro. Ma la cosa interessante, parlando di multidisciplinarità, è che contrariamente a quello che avviene in altri paesi, dove al massimo si hanno due o tre ministeri che sono responsabili delle attività spaziali, da noi c'è praticamente quasi tutto l'arco ministeriale e non è un caso questo. Ormai lo spazio è parte integrante della vita di tutti i giorni, è parte integrante di quello che i cittadini ricevono come servizi, aiuta la prevenzione, i problematiche, interviene in momenti di calamità. Quindi non è un caso, tornando all'argomento di oggi, che lo spazio può fornire, credo, uno degli strumenti migliori per poter supportare il patrimonio pubblico. L'altra cosa che volevo sottolineare è, ovviamente, diciamo, questa governance che è nata, serve proprio, nasce per favorire quelle che sono le attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in maniera tale da poter poi fornire al meglio i servizi spaziali ai cittadini. Ad oggi ci sono, in particolare nel settore dell'osservazione della Terra, guidate da questa governance, iniziative per raccogliere al meglio i requisiti da parte dei vari ministeri, da parte delle varie utenze, in maniera tale che poi l'Agenzia possa offrire gli strumenti per servire questi bisogni con strumenti, sia del cosiddetto upstream, cioè le macchine, gli strumenti orbitanti, che generano poi i dati che vengono tradotti in servizi per i cittadini. È stato ricordato alcuni esempi importanti, come la costellazione Cosmo SkyMed, che ormai da anni fornisce una quantità di dati straordinari, in condizioni di operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dati che vengono poi utilizzati per un campo di applicazione vastissima. Ci sono altri strumenti, come il satellite Prisma, l'infrarosso lanciato lo scorso anno, ma l'Agenzia ha intenzione anche di poter offrire degli strumenti anche più semplici, se vogliamo, sviluppabili con risorse più modeste, come piccole o nanosatelliti, che però possono essere al limite anche sviluppati ad hoc per delle applicazioni specifiche di alcune utenze, e come potrebbe essere, per esempio, il Demano mi piacerebbe parlarne di questo. Però poi non è solo, io ho parlato al momento solo degli elementi orbitanti, quindi il cosiddetto upstream, però parlare di spazi di applicazioni spaziali vuol dire anche parlare del midstream, le operazioni e ovviamente dei servizi, il downstream, l'utilizzo dei dati creati dall'infrastruttura orbitante. Ora, proprio parlando di questo, l'altra cosa di cui mi piace parlare è l'utilizzo che si fa della parte ricerca. Lo spazio non sarebbe niente senza la ricerca, perché lo spazio significa investire a lungo termine. Proprio nei giorni scorsi come agenzie si sono fatti promotori di una iniziativa per coordinare o proporre tematiche di ricerca, soprattutto per la ricerca accademica, quindi l'università. Non possiamo pensare di proteggere il nostro patrimonio se non educhiamo le future generazioni, quindi partendo dai ragazzi, dai studenti universitari e dai giovani ricercatori, a dedicare la loro capacità innovativa, la loro capacità di ricerca a sviluppare strumenti sempre più efficienti che possano poi essere utilizzati sulla base delle tecnologie spaziali per proteggere il nostro ambiente al meglio. Quindi questo sicuramente potrebbe essere un immediato, una proposta che vorrei fare, poter magari di concerto definire una serie di tematiche, di ricerca che potremmo offrire ai nostri ricercatori, poi eventualmente anche finanziare in maniera tale che nell'arco di, spero, breve tempo, possano venire fuori ulteriori nuovi strumenti da poter dedicare all'utilizzo delle attività spaziali per il patrimonio pubblico. Sono state citate, la Sottosegretaria ha parlato dei borghi digitali, con il Ministero dell'Innovazione vorremmo avviare un discorso proprio per l'utilizzo delle attività spaziali per i borghi, leghiamo queste due cose di nuovo, multidisciplinarità, dobbiamo cercare di utilizzare al meglio tutte le idee che in questo momento abbiamo in Italia che possono avere come elemento comune l'utilizzo di certe tecnologie, strumenti come quelli dello spazio, in maniera tale da accelerare certi ritorni. E quindi, volevo fare un altro esempio, abbiamo parlato di evoluzione possibile anche dell'utilizzo degli edifici, durante il periodo Covid, proprio forzate a casa, abbiamo fatto un bando, proprio di nuovo in collaborazione sia con l'Agenzia Spaziale Europea che con il Ministero dell'Innovazione, per stimolare idee, attrarre idee per l'utilizzo di strumenti spaziali per applicazioni, insomma, dedicate in particolare agli aspetti sanitari dell'emergenza o all'educazione a distanza. Sono venute fuori cose straordinarie, che possono anche far pensare a un utilizzo differente in futuro proprio dell'infrastruttura, perché magari la gente lavorerà di più da casa, potremmo pensare di riutilizzare certi edifici sulla base di idee, di strumenti che vengono invece dallo spazio e così via. Ho sentito parlare di fascicolo digitale del fabbricato. Secondo me il sogno è che a breve questo fascicolo digitale del fabbricato possa basarsi automaticamente su dati spaziali, in maniera tale da poter continuamente, magari tramite servizi upstream dedicati, avere un dato aggiornato con un tempo di rivisita molto breve di quello che è lo Stato nei fabbricati del demanio italiano, in maniera tale non solo come avviene oggi da poter intervenire quando c'è un problema, ma poter monitorare, fare prevenzione, preservare, guidare la manutenzione di questi edifici e intervenire e al limite anche poter guidare un'evoluzione territoriale o microterritoriale laddove certi edifici possono essere poi riorientati verso altri utilizzi, che è quello che mi sembra di capire se siete anche, state cercando di poter fare. Quindi per concludere, io ti vorrei fare una proposta, che per capire di essere concreti, secondo me potrebbe essere utile che le nostre agenzie si confrontino quanto prima, magari mettiamo su un tavolo di lavoro per poter tirare fuori dei progetti pilota, per accelerare questo utilizzo che già ha fatto, ovviamente i dati satellitari, e magari arrivare a un utilizzo a breve termine di nuove idee, delle risorse che hai elencato e che anche noi ovviamente abbiamo nel prossimo piano nazionale, delle attività spaziali e poter offrire quanto prima un ritorno sulla nostra esperienza in maniera tale da confermare quello che l'utilizzo possa essere fatto dai dati spaziali per il demanio pubblico. Grazie Presidente, credo che questo invito, questa disponibilità sia un grande esempio di collaborazione, e quindi con grande piacere noi su questo siamo intenzionati a cimentarci e a individuare insieme qualche soluzione utile da perseguire. Grazie. Grazie a te.